Risotto al radicchio di treviso e gorgonzola Durante la stagione invernale, un primo piatto caldo e sostanzioso come il risotto al radicchio di treviso e gorgonzola è un'ottima scelta. La ricetta è semplice ma esalta al massimo i sapori delle materie prime. Il radicchio di treviso è una varietà di radicchio dal gusto leggermente amarognolo che ben si abbina alla cremosità del gorgonzola. Per preparare questo primo piatto occorrono pochi ma pregiati ingredienti, riso, cipolla, brodo vegetale, radicchio di treviso e gorgonzola. Inizia la preparazione facendo soffriggere la cipolla in un filo d'olio in una pentola capiente. Aggiungi il riso e tostalo per qualche minuto. Sfuma con il vino bianco e lascia evaporare. Aggiungi il radicchio di treviso a striscioline e fai insaporire per qualche minuto. Quindi versa il brodo caldo poco alla volta. Mescolando frequentemente. Fai cuocere il risotto per circa 18 minuti, poi aggiungi il gorgonzola e mescola fino ad ottenere una crema liscia. Servi caldo il tuo risotto al radicchio di treviso e gorgonzola, accompagnandolo con un bicchiere di vino bianco e una spolverata di pepe. Fai cuocere il risotto per il risotto. Grazie a tutti.